La prima sbronza arriva sempre prima, già tra gli 11 e 12 anni. Per il Ministero della Salute, inoltre, gli under 30 rappresentano il 9,1% degli utenti dei servizi per la dipendenza da alcol. Anche le sostanze utilizzate sono un problema. Il vino viene sostituito da vodka, whisky, rum, gin, spesso mischiati con bevande energetiche o succhi di frutta. E poi ci sono le droghe. Un ragazzo su due fa uso di stupefacenti, soprattutto cannabis. La novità riguarda il repentino abbassamento dell'età della prima assunzione. Si iniziano a fumare spinelli a 11-12 anni, mentre le pasticche vengono utilizzate a 13-14 anni. Tra i più grandi ormai diffusissima la cocaina, mentre l'eroina è in lieve ma costante diminuzione. Ci sono poi altre dipendenze ancora nascoste e difficilmente rilevabili, come quelle da shopping compulsivo, gioco d'azzardo, cibo e social network. Secondo una ricerca inglese, sei ragazzi su dieci non si separano dal cellulare nemmeno a letto, lasciandolo sempre acceso. E addirittura il 36,7% manda un sms durante la notte. Di queste vecchie e nuove dipendenze, che destano più di una preoccupazione, si parlerà al primo convegno Supereroi Fragili, adolescenti a scuola tra vecchi e nuovi disagi, organizzato dal Centro Studi Ericsson il 24 e 25 ottobre a Rimini. Nel corso del workshop Uso Abuso e Dipendenza, dalle sostanze stupefacenti alle nuove dipendenze, Ulisse Mariani, psicologo e psicoterapeuta dell'ASL di Viterbo, assieme alla collega Rosanna Schiralli dell'Associazione Emotional Training Center, cercheranno di spiegare come mai sono così diffusi tra gli adolescenti d'oggi stili di vita caratterizzati da dipendenze e comportamenti patologici.